Attenzione bene, adesso non mi interessa la cintura, vado a infilare dentro la mano sinistra e con la mano sinistra vado a prendere il ballo, ok? Dove capita? Da questa posizione devo andare dalla parte opposta, passo il ginocchio destro, quindi da qui mi infilo sul fianco, mentre giro il mio braccio destro e continuo a girare dentro la sua schiena, ok? Dopodiché vado a pagina, mentre girate, non prima arrivate e poi passate in braccia. Ok? Uno, adesso lo puntate sul fianco, dentro con l'occhio, e mentre girate, questo braccio si infila dentro, controllate la sua spalla e poi uscite. Prego! Allora, sempre, vale, mi butto sotto quella prima, ma per la parte. Mentre giro, mentre giro, questa mano si infila sotto al ballo, indice e pollici aperti, questa subito sotto. Appena ho preso il ballo, no? Mi stacco da lui e cambio lato. Mi stacco da lui, cambio lato e passo in catagile. Questa ha il bubito, non sulla spalla perché incontrate troppa forza, ok? Sul bubito, poi da qua mi spassate dietro la sua testa. Allora, come prima, aferro il ballo, passo in minuto, giro. Come prima, aferro il ballo, passo in minuto, giro. Dopo che avete afferrato il ballo, andate verso il suo gomito, da qui vi dovete allontanare. Se state qua vicino a lui, è possibile. Dovete allontanarvi e passare l'altro lato. Prego! Catagile! 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 Grazie a tutti.